al mio tele oggi vi canterò finalmente la mia canzone ufficiale si intitola di fatto da fatto e la canterò pensate in questa riserva naturale ricolma di estetica salve a tutti utenti di youtube d'aleandro conosciuto l'italiano ebbene oggi sono qua non c'è nessuno ragazzi non c'è un'anima viva sono in una meravigliosa straordinaria sublime epica affascinante intrigante conturbante riserva naturale guardate non c'è nulla solo erba solo verde io qui posso anche fare bisboccia poc'anzi ho urinato in una dolce simpatica sieve all'aperto nessuno mi ha visto non c'è anima viva e di fatto da fatto posso cantare a squarciagula e canterò la mia canzone il mio primo singolo musicale ragazzi sarà già in pre vendita preparatevi ad ascoltarla non vi emozionate troppo contenete gli angelicati momenti di pura emozione che adesso vi vengo a proporre senza sì senza ma e senza problemi di sorta al mio 3 partirò 1 2 3 via di fatto de facto il colpo è stato fatto il caldi fatto de facto un altro colpo è stato fatto a a a occhi di fatto a a a occhi de facto sono degli stronzi che ha fatto un patto e ritornano come di fatto a a a a occhi de facto a a a occhi di fatto soltanto le troiette che ha fatto un patto e questo è di fatto de facto occhi di gatto uno stronzo è stato fatto o ho ho o occhi di di fatto so tre troiette che ha fatto un patto sono tre maniete troiette che ha fatto un ratto occhi di fatto un altro colpo è stato fatto di di fatto bene spero che vi sia piaciuta la canzoncina è breve vedrete il docotto adesso divertitevi ragazzi di youtube fatevi tutte le youtube pup che volete cercate di rendere questa canzoncina piacevole ovviamente è stata realizzata solo per voi perché vi voglio un mondo di bene spero che vi sia piaciuta la mia esibizione canora ma il mio 3 ve la produrrò di luogo questa volta cercando di urlare un po più ad alta voce uno due tre vi a occhi di fatto! occhi di fatto! è stato un di fatto che ha fatto un fatto!son tre troiette che ha fatto un patto! occhi di fatto! con un altro stronzo è stato fatto? oh occhi di fatto o occhi di fatto sono tre troiette che ha fatto un patto sono tre manierette troiette che ha fatto un ratto occhi di fatto perché questo è fatto fatto bene spero di avervi divertito spero di avervi rasserenato e soprattutto guardate che non c'è proprio niente nessuno oggi potrei anche girare desnudo senza abili addosso ma tanto qui non passa essere umano poco fa questa simpatica siepe di colme di estetica ha visto il mio dolce nettare che usciva fuori la pianta questa qui e poco anzi di fatto ne ha fatto ho fatto uscire fuori il pregiato nettare va bene la pioggia liquida la pioggia durata va bene bene iscrivetevi al canale conoscitori italiano commentare guardate guardate che spettacolo guardate che spettacolo che spettacolo ragazzi ma ma quanto è bella ragazzi ma quanto è bella ragazzi ora voglio imitarvi un attimo sera fino massoni che io gli voglio un grande bene è una persona meravigliosa ragazzi è uno dei professori più straordinari che secondo me esiste raga sulla faccia della terra procederò al mio 3 caro 1 2 3 via caro caro tutto bene caro sono contento che sei venuto a trovarmi caro sono contento che sia venuto caro spero che tu stai bene caro ricordati una cosa caro ed è che purtroppo di fatto di fatto queste ragazze di oggi caro la danno con la danno mal volentieri caro quindi stai attento e soprattutto questa è la realtà è di fatti di fatto di fatto caro ma vengono a trombare qui qui vengono a cacare raga qui vengono a cacare qui vengono a defecare che schifo hanno apportolato un po di cacca per terra ragazzi guardate che schifo questo invece è un assorbente usato che schifo ragazzi ma come si fa come si fa a fare certe cose diciamo così come si fa mi chiedo mi chiedo che ero emilio mi chiedo soltanto una cosa e come si fanno a fare certe cose mi chiedo mi domando e stavo lì ho trovato una ragazza l'ho vista e ho detto bella sei molto bella vieni qui prenditi cura del mio scettro magico e soprattutto prendevi in bocca bene bene ragazzi spero che avervi divertito fatevi le youtube pup che volete divertirevi e spero che la mia canzoncina occhi di di fatto occhi di di fatto vi sia piaciuta va bene iscrivetevi commentate ciao a tutti